Buongiorno a tutte e tutti. L'obiettivo di questo video è quello di utilizzare il progetto SPI-SPI per simulare un circuito desiderato. In questo caso faremo un'analisi di tipo punto OP. Quindi andiamo a selezionare un circuito di nostro gradimento. Il mio obiettivo oggi è di concentrare le nostre attenzioni sull'interpretazione dei risultati e quindi non sulla difficoltà del circuito che dobbiamo risolvere. Per questo utilizzerò un circuito molto semplice. Tra l'altro questo è lo stesso circuito che abbiamo utilizzato per capire come si scriveva una netlist. Ma ho semplificato di gran lunga i dati. Abbiamo un generatore di corrente in parallelo a tre resistori. Quindi siamo nelle condizioni di poter applicare un partitore di corrente per calcolare le correnti IR1, IR2, IR3. Ma i dati sono molto semplici perché le resistenze R1, R2 ed R3 sono di pari valore. Di conseguenza queste tre correnti sono di pari valore e sono un terzo della corrente impressa. Quindi IR1 uguale IR2 uguale IR3 ed è I1 diviso 3. Siccome I1 vale 9 A, le tre correnti nei tre resistori valgono 3 A. Di conseguenza questa tensione, la differenza di potenziale tra il nodo superiore e il nodo inferiore, che è la tensione che si applica a tutti i componenti, si può calcolare facilmente come R1 per IR1 oppure R2 per IR2 oppure R3 per IR3. E vale 3 per 5, ovvero 15 volt. Benissimo, questa è la nostra soluzione analitica di riferimento. Il nostro obiettivo è risolvere questo circuito, molto semplice, con il progetto SpicePi. Quindi, intanto dobbiamo scrivere la netlist di questo circuito. Un circuito di cui sappiamo già che sono presenti un nodo superiore in comune a tutti questi elementi e un nodo inferiore in comune a tutti questi elementi. Sappiamo che nella nostra netlist è necessario un nodo che sia denominato nodo 0. Direi di prendere il nodo sotto, lo chiamiamo nodo 0. Il nodo sopra lo possiamo chiamare nodo A. A questo punto, la nostra netlist, quindi andiamo a scrivere la nostra netlist. Partiamo dal generatore. Il generatore si chiama I1. È connesso tra il nodo A e il nodo B, ma noi dobbiamo imprimere I1 in modo tale che vada dal basso verso l'alto. Sappiamo che nelle netlist tutti gli elementi sono analizzati in convenzione degli utilizzatori e che in convenzione degli utilizzatori la corrente entra nel terminale convenzionalmente positivo. Quindi direi che entra in quello che noi chiamiamo N+. Quindi andiamo a scegliere per questo componente N+, ed N-, come 0 ed A. E dopodiché andiamo a metterci il suo valore. Il suo valore lo vedete lassù in alto a destra è pari a 9. Seguono i tre resistori su cui non è necessario porsi troppi problemi. La resistenza R1 è connessa tra A e 0 e vale 5 Ohm. La resistenza R2, anche lei, è connessa tra A e 0 e vale 5 Ohm. La resistenza R3, proprio perché voglio puntare l'attenzione sull'interpretazione dei risultati, invece la elenchiamo come connessa tra 0 ed A, di valore 5. In buona sostanza per questo resistore abbiamo scelto questo come N+, e questo come N-, per questo resistore abbiamo scelto questo come N+, e questo come N-, e per questo resistore abbiamo scelto questo come N-, e questo come N+. Di tutto questo ci dovremmo ricordare quando interpreteremo i risultati. Infine, dobbiamo utilizzare una direttiva spice.op per ottenere il punto di lavoro. Direi che siamo pronti per simulare questo circuito con il software, con la libreria SpicePie. Quindi, ci spostiamo su una nostra pagina di Google Colab. Creiamo un nuovo notebook. Questo notebook, magari lo chiamiamo in un modo notebook underscore op, visto che questo qua è il notebook per la simulazione punto op. Vi ricordo che al momento in cui eseguiremo il primo comando, la prima cella, verrà generata una nuova macchina virtuale. Una macchina virtuale in cui non è presente SpicePie. Per cui la prima cosa da fare è proprio installare SpicePie. SpicePie. Maiusc, invio. Ci vuole un attimo di tempo perché viene generata la macchina, quindi connessione, inizializzazione. Ed ecco che abbiamo la nostra macchina, e qui abbiamo installato la nostra libreria SpicePie. Questo è quello che abbiamo imparato a fare nel video precedente, dove di fatto il tutto si riassume in questo comando, ma noi adesso sappiamo anche cosa è successo dietro le quinte nel momento in cui abbiamo lanciato questo comando. Ora dobbiamo utilizzare... dobbiamo intanto scrivere questa netlist. Come possiamo fare per scrivere questa netlist? Clicchiamo su questa parte qua, la sezione File. Sappiamo che non dobbiamo lavorare sullo spazio locale perché sennò perderemo il nostro lavoro, quindi colleghiamo il nostro spazio Drive. Attendiamo che lui ci renda disponibile il nostro spazio su Google Drive. Eccolo qua. Come vedete dentro il My Drive esiste ancora la mia Working Folder, e qui dentro ci sono ancora le cartelle usate nel video precedente dove abbiamo configurato il sistema. Direi che all'interno di questa Working Folder noi potremmo creare una nuova cartella che chiamiamo Netlist. e all'interno di questa cartella possiamo generare un file che potremmo chiamare esempio 1. Il file lo possiamo chiamare .net o .txt, è uguale. Direi che lo possiamo chiamare .txt in modo che sia forse un po' più chiaro per tutti il concetto. e poi andrei a allargare un pochettino il mio spazio di lavoro ma tenendo aperta la netlist. Con un doppio clic sul file esempio 1 mi si apre un editor di testo e in questo editor di testo io molto facilmente posso andare a digitare il contenuto della netlist. i1 tra 0 e a pari a 9 r1 tra a e 0 pari a 5 r2 tra a e 0 pari a 5 r3 abbiamo deciso di connetterla tra 0 e a il valore è sempre 5 punto op per salvare questo file ctrl più s e come vedete il file è stato salvato. adesso dobbiamo questo volendo lo possiamo chiudere momentaneamente e dobbiamo andare a simulare questo circuito utilizzando spice pie ricordo che se noi andiamo a reperire il progetto spice pie io l'ho cercato su Google in questo modo e mi è comparsa la pagina del progetto è possibile andare sulla wiki dove ci sono gli esempi e ad esempio qui c'è una rete in corrente continua dove viene detto che le linee di codice necessarie per simulare questa rete in corrente continua sono queste per cui ad esempio noi possiamo andare a copiare queste due linee di codice e andare ad inserirle qua in realtà io adesso le scrivo per voi la prima cosa da fare è importare da spice pie la libreria netlist e la importiamo come ntl diciamo un modo più corto di chiamare la libreria netlist dalla libreria spice pie abbiamo net solve quindi from spice pie punto net solve andiamo ad importare net underscore solve queste sono esattamente le due linee di codice che vedete lì maiusc invio e abbiamo importato le nostre due librerie adesso dobbiamo leggere la nostra netlist ciò che si fa con questa porzione di testo la copio e la incollo quindi il nostro elemento network questa sarà la nostra variabile sarà costruito come ntl cioè stiamo utilizzando questa libreria punto network che è lo strumento con cui andiamo a leggere la nostra netlist e qui dobbiamo inserire la nostra netlist che non si chiama così si chiama esempio 1.txt c'è ancora un piccolo problema il problema è questo aggiungo una linea di codice print working directory control invio non siamo nella cartella corretta siamo in slash content se facciamo ls vediamo control invio vediamo che siamo in una cartella in cui non è presente esempio 1.txt adesso abbiamo due possibilità o ci spostiamo nella cartella in cui abbiamo esempio 1.txt o forniamo qui il percorso completo di questo file suggerisco la seconda strada perché è molto più sbrigativa è semplice da percorrere diciamo che questa cella non mi serve più accedo alla sezione file vado qui sul mio file esempio 1.txt clicco di tasto destro e copio il percorso a questo punto cancello esempio 1.txt posso chiudere questa parte qua vengo lì tra i due apici control v ed ecco che abbiamo il percorso completo del nostro file con un maiusc invio ho letto la mia netlist non ho ricevuto alcun errore dunque qui quindi a questo punto in maniera molto sintetica si va già a risolvere il circuito e a calcolare la soluzione di rete io vi voglio far vedere qualcosa in più se adesso l'elemento net viene visualizzato vi faccio un esempio supponete di inizializzare una variabile al valore unitario la variabile si chiama a se poi qua scrivete a invio vi restituisce il valore unitario qui con un control invio vi dice che questo è un elemento di spice pi ed è una rete una rete in cui dentro avete una punto op analisis potete visualizzare meglio il contenuto con un print net control invio e a questo punto vedete la netlist che è quella che abbiamo scritto anche qua vi dice che ci sono due nodi in questa rete e ci sono quattro lati come è normale che sia perché questo è proprio è proprio il nostro circuito direi quindi che possiamo aggiungere una cella e andare a risolvere la nostra rete copiamo utilizziamo net solve che è quella che abbiamo importato prima e gli diciamo di risolvere la nostra network cioè la nostra rete l'elemento punto net maiuschi invio apparentemente non è successo nulla ma in realtà la rete è stata risolta e se la rete è stata risolta adesso noi possiamo andare a calcolarci le le tensioni di tutti i lati le correnti in tutti i lati e le potenze associate ad ogni bipolo per la verità per calcolare le correnti sono necessarie le tensioni per cui se voi andaste direttamente a eseguire questo comando lui preliminarmente andrebbe ad eseguire questo per calcolare le potenze sono necessarie sia le tensioni che le correnti quindi potete anche usare direttamente questo comando lui internamente prima andrà ad eseguire questo e poi questo qui vengono elencati solo per farvi capire che esistono e si possono utilizzare ora solo per farvi capire cosa succede dietro le quinte nel momento in cui avete il vostro elemento net e premette il punto qui compaiono tutta una serie di proprietà di questa rete che a volte sono vuote a volte sono piene ad esempio vb e la variabile dove vengono memorizzate tutte le tensioni dei lati del nostro circuito se io eseguo adesso questa cosa qua non ottengo assolutamente nulla cioè sostanzialmente è vuota scusate dovevo mettere is non la variabile vb non è nulla è vuota adesso se io vado a calcolare le tensioni in tutti i lati ed eseguo questa cosa qua e vado a vedere cosa c'è dentro la variabile vb contro l'invio questa non è più vuota sul lato 1 o meno 15 volt sul lato 2 o 15 volt 15 volt sul lato 3 e meno 15 volt sul lato 4 allo stesso modo la variabile net.ib al momento è vuota non c'è nulla per cui se io vado a richiamare la funzione branch current che mi va a calcolare tutte le correnti e poi vado a riverificare cosa trovo dentro la variabile ib qui trovo le correnti associate a tutti i lati del nostro circuito avrete ormai capito che la stessa cosa si ottiene con le potenze nella stessa cella vado anche a visualizzare la variabile ib dove qui ci sono le potenze in watt ora leggerle in questo modo non è comodissimo perché il lato 1 non mi ricordo più chi c'è nel lato 1 e così via allora esiste una funzione più comoda per visualizzare i risultati che è elencata qua ed è la funzione net.print la funzione net.print una volta eseguita adesso farò un control invio mi dirà che sul resistore R1 ho una tensione di 15 volt una corrente di 3 ampere e una potenza di 45 watt sul resistore R2 ho ancora una volta 15 volt 3 ampere e 45 watt sul resistore R3 ho meno 15 volt meno 3 ampere e 45 watt sul generatore I1 ho meno 15 volt 9 ampere meno 135 watt il punto adesso è proprio interpretare questi risultati per cui adesso vado a copiare questo questo risultato sul sul foglio dove stavo scrivendo e dopodiché interpretiamo i risultati eccoci qua vedete i risultati che abbiamo appena ottenuto nel google collab qui a sinistra e sono stati anche copiati qui a destra in modo tale che adesso li possiamo annotare dunque la cosa importante da osservare è che quando abbiamo fatto i conti analitici abbiamo definito un numero minimo di variabili di nostro interesse le correnti nei resistori e le abbiamo definite tutte che diciamo avevano un flusso positivo convenzionale dall'alto verso il basso abbiamo definito quest'unica tensione che è la tensione ai capi di tutti i componenti e i risultati che abbiamo ottenuto sono questo 15 volt per la tensione 3 ampere per tutte le correnti e questi 15 e 3 li ritroviamo anche nei risultati ma talvolta con un segno negativo perché è tutto questo? cominciamo col generatore di corrente che è il nostro ultimo elemento dove troviamo meno 15 volt e troviamo un 9 volt scusate 9 ampere di corrente erogata questo è normale perché avendo scelto n più ed n meno in questo modo significa che abbiamo associato a questo componente questa tensione qua la tensione che lui ci indica in risultato come v di 1 questa qua ok ora è chiaro che questa tensione essendo definita in modo opposto rispetto a quella che abbiamo calcolato la sarà legata alla tensione v di 1 in questo modo sarà la stessa tensione ma uguale ed opposta se la tensione v qui valeva 15 allora il risultato è meno 15 volt ed è chiaramente quello che ci restituisce il nostro simulatore spice pie la corrente che abbiamo imposto è proprio questa questo era il nostro obiettivo imporre una corrente di 9 volt come indicato nel testo dell'esercizio il prodotto di queste due quantità mi fornisce in convenzione degli utilizzatori una potenza che entra nel componente 1 che viene chiamata P di 1 ok perché questa potenza è una potenza convenzionalmente assorbita ma una potenza convenzionalmente assorbita di valore negativo diventa una potenza erogata ed ecco che si spiega come mai il valore di questa potenza qua è negativo perché di fatto ed è ovvio che sia così essendo l'unico componente attivo lui sta erogando 135 watt detta al contrario cioè come ci viene detto dal nostro simulatore circuitale lui sta assorbendo un valore di potenza negativo per quanto riguarda il resistore R2 R1 ed R2 non c'è nulla di anomalo perché abbiamo definito una tensione in questo modo per il resistore R1 questa qua è la tensione V di R1 in questo modo per il resistore R2 questa è la tensione V di R2 scusate non c'è molto spazio e sto scrivendo non benissimo quindi V di R2 queste due tensioni V di R1 e V di R2 sono chiaramente uguali alla tensione V che avevamo definito qua sopra quindi ritorna il fatto che siano pari a 15 volt le correnti in convenzione degli utilizzatori sono queste I di R1 e di R2 quindi il nostro simulatore in output ci fornisce questa cosa qua I di R1 e R1 e R2 pertanto non è da sorprendersi che troviamo 15 e 3 15 e 3 sia per R1 che per R2 il prodotto sono 45 watt in convenzione degli utilizzatori sono potenze assorbite e il resistore assorbe potenza questo è chiaro per il resistore R3 nella netlist abbiamo fatto una scelta differente abbiamo scelto di definirla tra 0 ed A quindi abbiamo scelto che la N più fosse quella sotto e di conseguenza abbiamo scelto che questa fosse la tensione V di R3 in convenzione degli utilizzatori abbiamo quindi definito questa come I di R3 è chiaro che questa I di R3 va dal basso verso l'alto mentre nei conti analitici che abbiamo fatto la corrente andava dall'alto verso il basso il legame e quindi che la corrente I di R3 è uguale a meno uguale e opposta a quella che abbiamo chiamato I di R3 se I di R3 valeva 3 A questa vale meno 3 A poi è altrettanto chiaro che la tensione V di R3 questa sia uguale opposta alla tensione V quindi uguale a meno V quindi meno 15 Volt queste due grandezze sono definite in convenzione degli utilizzatori vale a dire che il prodotto ci fornisce una potenza P di R3 che entra dentro il nostro componente ed ecco che avendo un valore di V di R3 negativo avendo un valore di I di R3 negativo il prodotto diventa un valore positivo di 45 W ed è chiaro che un resistore assorba potenza quindi tutto torna in questo circuito abbiamo tre elementi che assorbono potenza i tre resistori la somma di queste tre potenze deve essere uguale alla potenza erogata e abbiamo un generatore di corrente che eroga 135 W come detto in precedenza se volessimo fare un ulteriore ragionamento qui sul nostro Google Collab noi potremmo andare ad inserire una cella andare a visualizzare le nostre potenze eccole qua 135 45 45 45 e andare eventualmente in un'altra cella a importare la libreria numpy as np e poi andare a verificare con una somma di tutte le potenze qui stiamo sommando tutte le potenze contro l'invio questo dovrebbe venire 0 non viene esattamente 0 se le facciamo diciamo se facciamo questa somma a occhio vedremo tutti che è 0 45 più 45 più 45 fa 135 meno 135 fa 0 come mai non viene 0 perché abbiamo un effetto di cancellazione numerica nel senso che questi sono numeri molto grandi la cui somma ci dà 0 a meno della tolleranza numerica della precisione numerica con cui vengono fatti i conti quindi questo 1,4 in 10 alla meno 14 si deve leggere come fosse uno 0 se proprio vogliamo qui andiamo a fare andiamo a mettere tutto questo in una variabile somma delle potenze e poi andiamo a stamparlo andando ad utilizzare punto format e stampiamo la variabile sum punto p e andiamo a mettere solo tre cifre dopo la virgola due punti mi pare che si faccia punto 3f contro l'invio ed ecco che abbiamo un 0 watt c'è ancora questa ambiguità del segno meno perché il numero era negativo molto piccolo ma negativo un meno 1 in 10 alla meno 14 insomma non dovete farvi confondere da queste cancellazioni numeriche la somma è nulla e direi che con questo abbiamo imparato a simulare un circuito in corrente continua calcolando nel punto di lavoro e soprattutto la cosa più importante dando la giusta interpretazione a quelli che sono i risultati changedi mai sempre non mas ris non è